Pensare che l'imprenditore Angelo Mastrolia la New Latte di Reggio Emilia, dalle ceneri del crack Parmalat, la rilevò il 21 aprile del 2008 dal commissario Bondi per la cifra simbolica di un euro. Oggi New Latte è il terzo player di tegano del latte e si posiziona bene anche nei prodotti da forno e nella pasta, ma non basta perché l'acquisizione della centrale del latte d'Italia consente alla famiglia Mastrolia di creare un polo alimentare che tra le attività in Italia e quelli in Germania fattura 500 milioni di euro con due società quotate in borsa nel segmento Star, una a Reggio Emilia e una a Torino, la centrale del latte d'Italia appunto e grandi programmi di espansione partendo dall'Italia ma per guardare con grande interesse ai mercati esteri. Aspichiamo che questo processo possa avere il giusto supporto per far sì che finalmente una piattaforma del food in Italia possa crescere ulteriormente. La New Latte di Reggio Emilia che l'imprenditore Angelo Mastrolia ha portato in borsa su Star diventa un polo da 500 milioni di fatturato specializzato nelle filiere del latte, della pasta e dei biscotti. Il salto dimensionale che è praticamente quasi un raddoppio è legato all'accordo appena sottoscritto a riprova che il coronavirus non ferma le M&A e le fusioni acquisizioni. Accordo sottoscritto con la centrale del latte d'Italia di Torino quotato in borsa presenti in Piemonte, Liguria, Toscana e in altre regioni con marchi prestigiosi legati al mondo del latte che si aggiungeranno a quelli di New Latte che ha come capofila la Reggiana Giglio. New Latte acquisirà la partecipazione di maggioranza in centrale del latte d'Italia pari al 46,24% al prezzo di un euro per azione con l'aggiunta di 0,33 euro per azioni ordinarie New Latte Food per ciascuna azione della centrale del latte d'Italia. Grazie alla combinazione industriale di New Latte Food e centrale del latte d'Italia il gruppo rappresenterà il terzo operatore italiano nel settore Milk and Dairy e vanterà la sua capacità produttiva completa e competitiva anche in tutto il resto del mondo visto che entrambi i gruppi stanno guardando all'export per effetto dell'acquisizione della partecipazione rilevante in centrale del latte d'Italia. New Latte Food sarà tenuta a lanciare un'offerta pubblica di acquisti e di scambi obbligatori, un OPAS, sulle rimanenti azioni ordinarie della centrale del latte d'Italia alle stesse condizioni fissate con i venditori della quota di controllo.